Sindaco, allora da domani si continua a lavorare per Calataviano? Beh, assolutamente sì. Voglio ringraziare tutti coloro che non hanno creduto alle tante bugie che sono state, diciamo, dette in questo periodo di campagna elettorale. Hanno immaginato che invece è vero sì che si sono fatti, ho chiesto sacrifici ai cittadini, ma era la strada più giusta. E questa è la dimostrazione della serietà. Ringrazio tutti i cittadini per avermi, diciamo, supportato oggi attraverso il voto e sopportato quello che è un'azione che non si poteva ovviare in nessun modo, ovvero quella di aumentare le tasse perché non c'era strada alternativa. Ecco, c'è qualche sassolino della scarpa che si vuole togliere dopo questa campagna elettorale nei confronti degli avversari. Petralia è trovato? Beh, io penso che la campagna elettorale bisogna chiuderla qua adesso ad immaginare invece ad andare avanti senza troppe polemiche. È chiaro che la dimostrazione di chi ha immaginato di mettermi in difficoltà oggi i risultati sono talmente chiari che chiaramente queste persone hanno sbagliato e sono state giustamente punite dai cittadini.